Allora, ciao ragazze di nuovo, ciao ragazzi di nuovo ben ritrovati e andiamo avanti oggi con la nostra lezione, il nostro corso di psicologia generale. Come ci siamo detti ieri, oggi entriamo proprio nel novero delle funzioni psicologiche che costituiscono lo zoccolo duro della disciplina dal momento della sua fondazione. Vedremo che in realtà gli studi su sensazione e percezione in qualche modo segnano l'ingresso della psicologia nella sua fase scientifica. Cosa volevo dirvi a riguardo? C'è anche un discorso concettuale per cui noi, dopo aver studiato il sistema nervoso, cominciamo a studiare la sensazione. Perché in effetti se vogliamo immaginare una creatura, un organismo che sia in grado di avere una cognizione, oltre ad avere la struttura fisiologica, la base fisiologica che renda possibile questa cognizione, dobbiamo postulare che ci sia almeno, come dire, la capacità in qualche modo di percepire, di sentire il mondo esterno, di sentire un ambiente interno ed esterno, in realtà poi lo scopriremo nel corso di queste ore, che metta in comunicazione l'organismo con il mondo e che quindi generi una prima attività di tipo cognitivo. Dunque, per venire alle nostre slide e cominciare la discussione, intanto il titolo della lezione di oggi, sensazione, percezione e ambiente, a volte sensazione, percezione e realtà. Poi ci sarebbe una discussione da fare se l'ambiente è la realtà, se la realtà è l'ambiente e viceversa, ma insomma lasciamo perdere per un attimo queste disquisizioni che sono probabilmente filosofiche e concentriamoci sulla differenza di questi due termini, sul fatto che noi utilizziamo questi due termini, sensazione e percezione. Nel linguaggio comune tendiamo a usarli in maniera, a modi sinonimi, tendiamo a pensare che sensazione e percezione possano essere intercambiabili come vocaboli. In realtà nel vocabolario scientifico della psicologia le cose non stanno così, perché noi dobbiamo distinguere due diversi tipi di fenomeni che sono studiati da due discipline, da due branche della scienza psicologica differenti. Noi abbiamo da un lato la psicofisica, che viene anche detta psicofisiologia sensoriale, che è lo studio dell'elaborazione sensoriale. Dall'altro lato abbiamo la percettologia, che invece è lo studio delle percezioni. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? La sensazione ha a che fare con una dimensione strettamente fisica e strettamente fisiologica, cioè ha a che fare con una serie di quanti, una quantità di energia che viene dall'ambiente, che va a colpire degli organi fisiologici, che noi chiamiamo organi di senso. Fintanto che parliamo del rapporto tra questo stimolo, l'organo di senso e il tipo di impulso nervoso che viene generato e trasportato fino al cervello, allora stiamo parlando di sensazione. Qualcosa che dipende strettamente dalla fisica e dalla fisiologia. Dall'altro lato però noi sappiamo, lo scopriremo anche il perché scientifico di tutto ciò, noi sappiamo che quando ci rivolgiamo al mondo come agenti dotati di una capacità sensoriale e percettiva, noi non andiamo a costruire l'immagine che abbiamo del mondo, che ci arriva dal mondo e che noi elaboriamo in termini di accumulo di sensazioni. Noi vediamo degli oggetti, oggetti che hanno delle caratteristiche specifiche, alcuni oggetti riusciamo a riconoscerli con più facilità di altri perché hanno un loro specifico valore per la nostra specie. Il modo in cui noi elaboriamo le sensazioni e li rendiamo delle immagini, immagini in senso lato, delle rappresentazioni percettive che sono dotate di un senso, allora in questo caso stiamo parlando dei percetti. Questo è lo studio della percezione. La percezione ha più a che fare con la dimensione cognitiva, con la dimensione dell'elaborazione degli stimoli in un percetto che sia saliente, che sia significativo per noi. D'accordo? Questa è una differenza molto importante terminologica ma anche concettuale che dovete tenere a mente. È vero, non posso negarlo, ma questo insomma vi diventerà chiaro nel corso della nostra riacchierata di oggi, che in realtà è difficile, al di là della delimitazione arbitraria che gli diamo come tassonomia scientifica, operare una distinzione netta tra questi due casi. Vedremo che ci sono strutture del cervello che sono in qualche modo deputate proprio a fare da ponte fisico per un feedback tra processi inferiori e processi superiori. Ma questo alla fine di questo piccolo sottomodulo diventerà assolutamente chiaro. Detto questo, dobbiamo occuparci, partendo diciamo dal livello che potremmo considerare più basso o più semplice, anche se poi così semplice non è, della psicofisica. Il nostro discorso deve necessariamente virare verso un'analisi di quelli che sono i sensi. Intanto mi piacerebbe insomma farvi una domanda, no? Quanti sono i sensi? La maggior parte delle persone tende a rispondere che i sensi sono cinque, perché c'è una narrazione, un costrutto culturale per cui ci sono cinque sensi. Secondo voi c'è qualche senso in più? O qualche senso che dobbiamo ripetere in qualche modo? Faccio questa domanda, vediamo se qualcuno di come vuole rispondere. Allora, Lucrezia dice la percezione dello spazio. Sì, la percezione dello spazio, potrei fare l'avvocato del diavolo e ti potrei rispondere bene, ma lo spazio lo percepisco con la vista, con il tatto. Puoi essere più precisa però, puoi cercare di formularla meglio, perché la sai la risposta, perché l'abbiamo studiata l'altra volta, l'abbiamo accennata l'altra volta, non tanto dello spazio esterno, la percezione. Abbiamo un senso molto complesso, molto composito, che ci dice il posto che noi occupiamo nello spazio, il nostro corpo, la nostra propria percezione, d'accordo? Ma vedremo per esempio un senso che non dovrebbe essere mai sottovalutato, è la sensazione del dolore. Il dolore che occupa un posto particolarissimo in psicologia, perché lo ritrovi nello stress, nelle emozioni, lo ritrovi nella memoria tantissimo, la paura, scusate, il dolore, perché spesso è associato alla paura. Il dolore però ha anche un apparato fisiologico, un sistema fisiologico di percezione ed elaborazione molto complesso e dedicato, su cui noi ci soffermeremo nella seconda parte di questo argomento. Vi dicevo che però i sensi possono anche essere da rivedere, anche i sensi che consideravamo, come dire, assodati, no? In qualsiasi libro di scienze naturali delle scuole superiori troverete l'immagine della lingua con le diverse zone occupate dal diverso tipo di papille gustative, quelle che si occupano del dolce, quelle che si occupano del salato, quelle che si occupano dell'amaro. Non so se siete appassionati di cucina orientale, nel senso che so che è un discorso che polarizza molto le persone, io sono un grande entusiasta dell'introduzione del sushi e della cucina giapponese in questo paese, la cucina giapponese di un certo livello. Recentemente abbiamo dovuto la comunità scientifica occidentale, vedete poi anche quanto, come dire, ci sono delle questioni di politica e della scienza dietro, no? L'abbiamo cominciato a studiare noi, nel nostro modo, il senso del gusto e avevamo deciso che quelli erano i sapori. Eppure esiste una zona specifica della lingua che è deputata alla percezione, alla sensazione, alla percezione del gusto che è chiamato umami. Non so se ne avete sentito parlare già dell'umami, no? Adesso all'interno dei manuali di psicologia più recenti diciamo che ci sono differenti gusti e poi c'è anche un nuovo gusto scoperto da poco che è l'umami. In che senso abbiamo scoperto da poco l'umami? Che per farci capire è quel tipico sapido della cucina orientale, quello che viene volgarmente definito il salato del cinese, no? Il salato della cucina cinese. Ecco, l'umami è un tipo di sensazione e percezione che è legata a dei recettori sulla lingua che si legano al glutammato, quel esaltatore di sapidità che si usa molto e che poi noi abbiamo visto essere in realtà anche una sostanza, una molecola fondamentale per tantissime funzioni cognitive e funzioni cerebrali. Ecco, noi possiamo dire che abbiamo scoperto che c'è un nuovo gusto da un punto di vista sensoriale perché è stata stabilita una correlazione univoca tra una zona che già conoscevamo rispondere al glutammato, semplicemente però noi non avevamo la parola per dire quel gusto. Invece gli orientali ce l'avevano perfettamente e quindi abbiamo incamerato questo termine orientale, umami, sapido, ma quel sapido lì non è traducibile con sapido, basta sapido, anche l'acqua salata è sapida nella lingua italiana. Invece l'umami è quel gusto particolare là, il gusto particolare che si lega al glutammato. Questo semplicemente per farvi una piccola parentesi su quanto poi in realtà anche la conoscenza scientifica su questi che sembrano dei dogmi poi in realtà possa sempre essere rivista, d'accordo? Allora proseguiamo in questa analisi dei sensi e guardiamola come dire da un punto di vista generale. Che cosa possono rappresentare dal punto di vista di un'analogia euristica che ci permetta di comprendere la funzione gli organi di senso? Noi possiamo considerare gli organi di senso come dei trasduttori, trasduttori biologici ovviamente. In che senso trasduttori? La trasduzione è la trasformazione di un tipo di energia in un altro tipo di energia. Questo in generale, non nell'ingegneria, nella fisica, ma a livello biologico gli organi di senso sono dei trasduttori nel senso che prendono un certo tipo di energia, per esempio l'energia luminosa nel caso della vista o l'energia meccanica fisica delle vibrazioni del suono nel caso dell'udito o quelle chimiche nel caso del gusto dell'olfatto e così via, e le trasformano in un altro tipo di segnale, in particolare un segnale di tipo elettrico-nervoso, elettrico-chimico di tipo nervoso. Lo vedremo oggi quando andremo ad affrontare passo dopo passo l'iter che fa la luce nel momento in cui colpisce il nostro occhio fino ad arrivare alle nostre aree visive. Questo primo passaggio che avviene nell'organo di senso è questa trasduzione di segnale. Inoltre, e questo ci diventerà molto chiaro studiando l'occhio, ma anche in particolare vedendo la conformazione dell'orecchio, che da questo punto di vista è assolutamente esemplare, gli organi di senso funzionano da amplificatori di segnale, amplificatori sempre biologici, e questo qua addirittura a livello preneurale, proprio a livello semplicemente di conformazione fisica di come sono fatti questi organi. Sono organi che sono stati selezionati nel corso dell'evoluzione appositamente per questo scopo, quello di amplificare e rendere più potente il segnale d'ingresso. Vedremo che le nostre capacità sensoriali, per quanto limitate rispetto al vastissimo orizzonte di possibilità del mondo fisico, sono assolutamente eccezionali in questo. Noi riusciamo a percepire anche suoni o luci molto deboli, proprio perché riusciamo, abbiamo una serie di meccanismi che sono sia fisiologici sia neurologici, neurofisiologici, che ci permettono di amplificare al massimo il segnale per garantire le condizioni ottimali di recessione sensoriale. Inoltre questa trasduzione dobbiamo tenere conto di due cose. La prima è che la trasduzione non dipende mai dal tipo di stimolo che arriva, ma dipende dall'organo. Questo vi sarà assolutamente chiaro più tardi quando vi farò fare un piccolo esperimento con voi stessi come cavie, parlando della codifica sensoriale. Per adesso, oltre alla specificità di ogni singolo organo di senso, cioè ogni organo di senso trasduce nella sua specifica maniera, c'è un'altra specificità, che è la specie specificità. In che senso? Ogni specie ha i suoi apparati sensoriali e ha i suoi meccanismi sensoriali. Scriveva un grande autore qualche tempo fa un articolo che si chiamava Chissà com'è essere un pepistrello. Noi non possiamo sapere cosa significhi l'ecolocalizzazione. Non abbiamo gli organi di senso per l'ecolocalizzazione. Non siamo pepistrelli e non abbiamo un radar. Ogni specie ha specifici meccanismi e specifiche leggi che regolano il processo sensoriale. E nella psicologia comparata e anche nella psicofisica comparata, per esempio, si è studiato moltissimo il funzionamento visivo del cane, il funzionamento visivo del ratto o anche di altri animali di cui mi piacerebbe raccontarvi la storia, tipo le marmotte. Voi direte, marmotte e castori esattamente che c'entrano con la storia della visione. È una lunga storia che coinvolge anche la Kodak, una parte della mia tesi di dottorato. Magari un giorno poi ve lo racconto a parte. però lo studio comparato della sensazione negli animali, nei diversi animali, incluso l'uomo, ci ha fatto capire che ogni specie ha dei meccanismi di regolazione sensoriale specie specifica. Oltre agli organi di senso che funzionano a trasduttori, l'altro elemento concettuale che noi dobbiamo introdurre è il concetto di stimolo. Che cos'è uno stimolo? Uno stimolo è qualsiasi tipo di energia che sia in grado di suscitare una risposta a livello sensoriale. Ok? Cioè qualsiasi tipo di energia, non importa se nel nostro caso per esempio può essere, l'abbiamo detto prima, visiva, meccanico, fisica, chimica, se un tipo di energia riesce a elicitare una risposta all'interno di queste strutture, allora possiamo definire lo stimolo. E a sua volta possiamo definire questi stimoli come divisi in due tipologie. Da un lato abbiamo gli stimoli distali, che è l'insieme generale dello stimolo. E poi abbiamo lo stimolo prossimale, che è la parte di energia che uno specifico organismo riesce a catturare. In che senso? Se io guardo la luce fuori dalla mia finestra, io sono investito da tutto lo spettro della luce. La spettro della luce è molto più ampia di quello che io posso vedere. La quantità di energia luminosa che arriva al mio occhio è lo stimolo distale, e include anche frequenze, per esempio infrarosso e ultraviolette, a cui i miei organi di senso non riescono a dare una risposta, cioè non si attivano davanti a quel tipo di stimolo, che comunque arriva al mio occhio. La parte che però la mia retina, nel caso specifico della visione, riesce a catturare, a trasformare in uno stimolo, allora quello è lo stimolo prossimale, è quello che diventa il dato grezzo da cui parte la prima elaborazione neurale. Ci siamo su questo? Proseguo e vado avanti. Ecco, e andiamo su un'altra proprietà importante della sensazione, che ha a che fare con gli organi, questa volta non in loro stessi, nelle loro proprietà funzionali, ma nelle proprietà funzionali che essi hanno nel momento in cui si vanno a interfacciare con l'ambiente. Per garantire la massima efficienza nella ricezione sensoriale, nella detezione sensoriale, i nostri sensi sono in grado di andare incontro a quello che viene chiamato l'adattamento. L'adattamento sensoriale consiste in qualsiasi meccanismo di regolazione e di messa a livello, di messa in equilibrio, della cattura degli stimoli per fare in modo che essa sia sempre efficiente. Se voi guardate questo piccolo video qui a fianco nelle slide, vedete un fenomeno che è un fenomeno, dopo lo studieremo bene quando manniamo nell'occhio, si chiama accomodazione. L'accomodazione è un tipo di adattamento. Quello che fa sì che la popilla si allarga o si restringa a seconda del tipo di intensità di luce che abbiamo nell'ambiente intorno a noi. Un altro tipo però di adattamento molto importante è quello che poi ritroveremo quando parleremo dell'apprendimento non associativo nel momento in cui un certo stimolo smette di essere rilevante nel tempo. Pensate per esempio a un suono molto acuto che arriva, il fischio di una cassa in cui c'è il ritorno di un microfono. All'inizio quel fischio ferisce con forza le vostre orecchie. Dopo un po' di tempo però vi rendete conto che quel fischio sia un po' in qualche modo affievolito. Che cosa è successo? È successo che un delicato meccanismo di regolazione dell'attività dei neuroni coinvolti nell'elaborazione sensoriale ha risposto in maniera diversa, mettiamola così, per fare spazio anche a altre possibili sensazioni che arrivavano dall'ambiente esterno. Poi anche in questo spesso si vanno a impiantare dei meccanismi cognitivi di regolazione, non soltanto sensoriali. Detto questo abbiamo preso l'organo di senso come trasduttore, lo stimolo come concetto di quantità di energia in grado di sollecitare una risposta e l'adattamento sensoriale come proprietà funzionale per regolare l'efficienza. Che cos'è però a un certo punto che accade quando noi mettiamo a sistema questi tre concetti? Succede che dobbiamo stabilire quando un organo è in grado di avere una risposta a partire dallo stimolo e per fare questo introduciamo un termine, un concetto che è il concetto di soglia e nello specifico in questo caso di soglia assoluta. Che cos'è una soglia assoluta? La soglia assoluta è il punto di riferimento a partire dal quale uno stimolo, se supera quella soglia, riesce a generare una sensazione, cioè riesce a rendere significativa l'attivazione di un'area, l'invio di un organo di senso e l'invio di un impulso bioelettrico al cervello. Per una serie di motivi che non vi sto a spiegare, noi usiamo spesso questa formula, soprattutto nelle scienze biomediche, del 50% dei casi in cui avviene. Una soglia assoluta può essere definita tecnicamente come la quantità minima di energia necessaria per produrre una risposta da parte dell'organo di senso, almeno nella metà dei casi. Soglia assoluta o in letteratura anglosassone absolute threshold. Le soglie assolute sono fondamentalmente il punto di partenza, cioè il momento zero da cui parte l'elaborazione sensoriale e non sono facilissime da definire. Ora, in tutti i manuali di psicologia, incluso quello che voi avrete fra le mani, troverete delle descrizioni che in realtà non mi sono mai preso la briga di andare a controllare chi ne è stato l'autore, ma che trovo sempre particolarmente affascinanti perché è una sorta di momento di poesia all'interno della psicologia generale. Perché il modo in cui vengono descritte le soglie ha qualcosa di romantico, mi sarebbe piaciuto mettere un piccolo sottofondo musicale come, non so, una gimnopedica di Rixati, però le soglie assolute essenzialmente sono queste per i differenti sensi, proprio riportate dalla manualistica. Per la vista è la fiamma di una candela, vista a 50 km di distanza in una notte serena. Per l'udito è il ticchettio di un orologio in condizione di silenzio a 7 metri di distanza. Per il gusto un cucchiaino di zucchero in 7 litri e mezzo d'acqua. Per l'olfatto una goccia di profumo in un appartamento a dei tre stanze. E infine per il tatto, forse questa è la più bella, la più poetica di tutte, l'ala di un'ape che cade sulla guancia dall'altezza di un centimetro. Io non so esattamente quanti sperimentatori siano riusciti a far cadere l'ala di un'ape sulla guancia di una persona dall'altezza di un centimetro, però come dire, le teniamo così perché sono proprio belle, sono dei piccoli haicuni, sono delle piccole poesiole, ce le teniamo così, insomma, non vi preoccupate, non vi chiederò di ripetermele all'esame. Le soglie assolute, ovviamente, possono cambiare nel corso del tempo. Qual è la prima forma di modificazione delle soglie assolute? È l'invecchiamento. Nel momento in cui invecchiamo, al di là di eventuali problemi di udito, noi ci ritroviamo sistematicamente che le nostre soglie cominciano ad alzarsi, questo perché va a scendere la nostra capacità sensoriale percettiva. Esistono però tuttavia altri fattori, a volte fisiologici, a volte psicologici, che possono influenzare molto il livello della soglia assoluta. Per esempio, essere sovra pensiero può, per esempio, in un certo momento alzare questa soglia, no? Quando siamo molto distratti o quando siamo molto stressati, possiamo faticare di più a ricevere una risposta sensoriale, oppure in casi, per esempio, dovute alterazioni o dovute a situazioni traumatiche. Al di là delle soglie assolute, però, c'è un altro ulteriore concetto che è assolutamente fondamentale, e questo anche per una ragione di tipo storico-epistemologico, per cui ritorniamo insomma al nostro discorso in cui non lasciamo mai da parte la componente storica, anche mentre ci addentriamo all'interno della psicologia. Infatti, vicino alle soglie assolute, dobbiamo introdurre il concetto di soglia differenziale. Che cos'è la soglia differenziale? La soglia differenziale in inglese si chiama JND, Just Noticable Difference, cioè la differenza appena osservabile. Può essere definita come lo stimolo, il cambiamento nello stimolo sensoriale che ci permette di apprezzare che è avvenuta una differenza. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se io tengo in mano un peso da 5 kg, quanto è il peso che devo mettere sopra affinché io senta, abbia la sensazione che il peso è aumentato o il peso è diminuito? Per cercare di rispondere a questa domanda, che non è una cosa affatto semplice in realtà e come vedremo c'è una grande riflessione epistemologica dietro, a un certo punto diversi autori, i più importanti Weber e Gustav Fechner, la persona che vedete qui nella foto nella slide, dietro vita una disciplina, che è quella che noi oggi ancora continuiamo a considerare la branca della psicologia che si occupa della sensazione, nota come psicofisica. Gustav Fechner era un personaggio assurdo della storia della psicologia. Persino Freud lo chiama il grande Fechner perché ne aveva una stima immensa. Eppure se ci si avvicina alla sua opera, a parte degli elementi di psicofisica, si trova un personaggio assolutamente straordinario per molti aspetti. Scrive un libro sull'anima delle piante, un libro di morfologia comparata degli angeli che a partire dai funzioni cognitive che lui gli ascrive pensa di poter immaginare una forma. Un giorno rimane cieco, non riesce a vedere i colori e per un periodo di tempo, mi sembra, almeno un paio d'anni resta fondamentalmente cieco, perché per cercare di dimostrare una sua ipotesi fissa per 25 secondi in maniera diretta legandosi gli occhi, il sole, la moglie si arrabbia tantissimo. Ci sono delle testimonianze storiche della moglie che era avvelenata proprio. Se un giorno riuscirò a vivere di ricerca e di insegnamento, scriverò un libro sulla moglie di Fechner, che secondo me è un personaggio assolutamente troppo sottovalutato della storia della psicologia, quantomeno per vivere con un personaggio del genere. Ciò nonostante Fechner all'idea di queste stranezze ha un grandissimo merito per quanto riguarda la costituzione della psicologia scientifica. Con gli studi sulla psicofisica, lui è il primo a mettere nero su bianco, in maniera formalizzata, attraverso una formula matematica, un processo psichico, che è il processo della sensazione. In particolare, in quella che viene chiamata la legge di Weber e Fechner, Fechner asserisce che il cambiamento per poter apprezzare una differenza nella stimolazione sensoriale è dovuta a una costante che è specifica per ogni senso e a un aumento di tipo logaritmo. Questo che significa? Significa che se tengo un peso da 5 kg su una mano e per sentire una differenza mi basta aggiungere 100 g, se tengo 30 kg tra le braccia non mi basta aggiungere 100 g, devo salire in maniera logaritmica secondo una certa costante per poter apprezzare la differenza. Questo per esempio è il motivo per cui i decibel sono una scala logaritmica, perché hanno a che fare proprio con la dimensione psicofisica dell'apprezzamento del suono. Come dicevamo prima, il tipo di sensazione provata non dipende tanto dal tipo di energia che arriva, anche perché noi siamo continuamente bombardati da una serie di input fisici di ogni tipo in qualsiasi parte del corpo. Per esempio, se tiro fuori la lingua e la metto sotto al sole, la lingua sta ricevendo in quel momento un tipo di stimolazione che è una stimolazione luminosa, un'energia luminosa, a cui però non risponde, perché non ha su di sé nessun recettore per poter rispondere. L'intensità di uno stimolo, alla stessa maniera, non dipende dall'intensità... scusate, l'intensità della sensazione non dipende dall'intensità dello stimolo. Questo che significa? Significa che non è che se io invio più luce ai miei occhi, allora l'intensità è più forte. Per la legge che noi abbiamo studiato, parlando delle basi nervose, noi sappiamo che i neuroni non è che aumentano l'onda del potenziale d'azione, possono al massimo sparare di più, possono avere una frequenza più alta di file. Questo fa sì che venga rispettata questa legge fondamentale dell'elaborazione nervosa, della trasmissione dell'impulso nervoso, e che contemporaneamente noi possiamo comprendere che le diverse sensazioni, per esempio luce fioca o luce abbagliante, dipendono soltanto da quell'intensità della scarica, non dal fatto che più luce colpisce l'occhio e quindi è più potente l'energia. Semplicemente in questo caso per esempio si attiveranno più coni che sono deputati alla visione luminosa. In ogni caso vale la pena già adesso di mettere in campo un discorso che già si interfaccia un po' con la parte dell'elaborazione percettiva, quindi un po' più cognitiva. Ciascuno dei cervelli delle specie degli animali che sono in grado di operare sensorialmente nei confronti del mondo sono stati selezionati per rispondere a stimoli specifici, per dare una risposta a degli stimoli che fossero significativi e salienti per gli individui di quella specie lì. Per questo motivo gli organi di senso sono particolarmente sensibili a delle caratteristiche percettive specifiche. Questo che cosa significa? Non so se voi avete mai avuto a che fare con delle rane o dei rospi nel corso della vostra vita, comunque dei batraci. Una cosa che si dice spesso è che, e che è vero che si può sperimentare questa cosa qui, se voi prendete una mosca morta, le rane e i rospi ne sono ghiotte, e la mettete immobile davanti alla bocca di una rana, la rana non si muoverà, non mangerà quel suo succoso pasto. Perché? Perché gli occhi della rana sono tarati per vedere piccoli pallini neri in movimento. Quindi questo significa che se c'è una mosca morta davanti che sta ferma, la rana non la vede, ma se voi prendete un piombino e lo fate oscillare davanti alla bocca della rana, allora quella cercherà di acchiapparla con la lingua. E questo, per esempio, è semplificato anche da questo breve video, in cui c'è un momento, non so se riuscite a vederlo... L'ho riuscita a vedere? Non si muove nulla, vabbè, allora poi ve lo rimetto nel video caricato. Comunque che cosa succede in questo video? Succede che... si sente l'audio, però non so se lo sentite. Succede che davanti a questo rospo c'è un signore che mette un cellulare con delle... un'app, insomma un piccolo gioco in cui devi schiacciare delle formiche, l'occhio del rospo vede dei puntini neri che si muovono e quindi con la lingua cerca di acchiapparli perché distinto vede la caratteristica percettiva che lui cerca nell'ambiente, cioè una massa nera che si muove e cerca di acchiapparla. Poi c'è anche insomma un momento di vendetta e di giustizia divina nel momento in cui il rospo un po' frustrato morde la... morde il dito del ragazzo con lo smartphone. Questo per questo ci aiuta anche a capire quello che avevamo detto prima e cioè che gli organi di senso funzionano in maniera strettamente specie specifica. Ma c'è anche un'altra specificità che è quella che, come dire, ci stiamo anticipando già da un po', e cioè il fatto che ciascun organo di senso trasduce ed elabora un segnale a partire dalla sua conformazione e non dalla conformazione dello stimolo. Questo che significa? Significa che nel momento in cui ha inizio il processo di codifica sensoriale, cioè il processo attraverso cui l'energia fisica che colpisce l'organo di senso viene trasdotta in un pattern di scariche bioelettriche, quel tipo di scarica non è determinata dall'energia che arriva, ma solo dall'organo di senso. Un esempio per comprendere bene questo fenomeno è il fenomeno dei fosfeni, di cui ora oggi vi chiederò di fare un piccolissimo esperimento insieme. Toglietevi gli occhiali, se li avete, e prendete i palmi delle vostre mani e schiacciate con delicatezza, perché anche se siamo a distanza sono ancora il responsabile morale della vostra incolumità, poi se no il professore della Rocca fa fare gli esperimenti e ci fa male agli occhi, e prendete i palmi delle mani e schiacciate gentilmente contro il globo oculare, gentilmente per un po' di tempo. Ora, dopo qualche secondo dovrebbero cominciare ad apparire delle immagini molto particolari. Sono immagini essenzialmente geometriche, di forma più o meno regolare, piccole ombre grigie e luminose contro uno sfondo un po' più scuro, che apparino davanti ai vostri occhi. Ecco, poi ci vuole anche un pochino... Peccato che non possa fare uno screenshot di questa bellissima lezione in cui vive tutti quanti così. Però, insomma, riprendete un secondo la visione della luce. Perfetto, ci siete? Che cosa è successo in questo caso? Forse me lo sapreste già spiegare anche voi. Nel momento in cui voi avete schiacciato il globo oculare, avete esercitato un tipo di pressione che ovviamente in termini fisici è un'energia meccanica, ok? Questa energia meccanica è andata a eccitare, perché comunque l'ha schiacciata, le cellule della retina, che sono le cellule che si occupano della visione. Queste cellule si sono attivate perché c'era una pressione, quindi, come dire, c'è stata una scarica anche solo per dei potenziali graduati là intorno, per simpatia, no? E però il messaggio che hanno trasmesso al cervello qual era? È l'unico messaggio... hanno trasmesso un messaggio nell'unica lingua in cui sapevano parlare, cioè la lingua dei segnali visivi. E vi hanno inviato un pattern visivo, che è la traduzione fatta dalla retina di questa pressione nei confronti dell'occhio. D'accordo? Questa è una cosa abbastanza interessante, a parte è molto affascinante, c'è un grande filosofo della mente americana, si chiama Eric Schwitz-Gabel, ha scritto un libro qualche... ormai si stava andando a 6-10 anni, che si chiama Perplexities of Consciousness. I fosfeni sono stato un fenomeno che hanno affascinato tantissime persone nel corso della storia della psicologia e della filosofia della mente. Ma in particolare noi possiamo apprezzarli proprio come gli esempi perfetti della specificità sensoriale della trasduzione. Cioè ogni organo di senso trasduce come può, né più né meno. Una lingua conosce l'occhio, una lingua conosce l'orecchio, una lingua conosce la lingua e così via. Una lingua conosce la lingua, insomma... scusate, sono dei giochi di parole involontari che escono. Dunque, adesso possiamo riprendere l'iter soffermandoci, come vi dicevo oggi insomma ci dedicheremo essenzialmente a lei, dedicandoci alla regina del mondo sensoriale, almeno in occidente. Perché? Perché la visione è stata da sempre considerata... è stato considerato il senso più importante, no? Per moltissimi aspetti il senso più importante per l'essere umano, per l'individuo, all'interno perlomeno della nostra cultura. Vi dicevo, nella prima lezione, forse lo ricordate, che teorein, il termine che poi definisce la teoria, cioè la teoria nel senso dell'episteme, della conoscenza, viene dal verbo che significa vedere qualcosa. Vedere è assolutamente importante all'interno della nostra cultura. È considerato il modo attraverso cui l'essere umano si interfaccia col mondo per comprenderlo. Altre culture sono più legate ad altri sensi. Per esempio la cultura ebraica è una cultura essenzialmente dell'udito, una cultura dell'ascolto. Il loro Dio non si mostra, ma parla. Questo lo vedete all'interno anche delle eredità nella tradizione cristiana, no? Se ricordate l'inizio meraviglioso e poetico del Vangelo di Giovanni inizia dicendo in principio era il verbo, era il logos, il verbo, la parola, e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Quello è un senso molto... è una cultura dell'udito. All'interno della cultura occidentale, però, la visione ha sicuramente un primato. E questo si è riflettuto inevitabilmente anche nell'attenzione scientifica che è stata data alla vista. Quindi, per approcciarci allo studio scientifico, anche poi per seguire, insomma, come dire, tutta la caratterizzazione dei processi psicologici che sono legati alla vista, partiamo ovviamente dalla parte più, se volete, anche semplice, anche se poi in realtà non lo è, che è l'occhio umano, un'analisi della struttura dell'occhio umano. Allora, l'occhio umano, voi dovete immaginare una cosa. La struttura che noi chiamiamo occhio ha una storia da un punto di vista evoluzionistico fantastica. Ci sono stati scritti libri a riguardo, ci sono state polemiche per tantissimo tempo. Per esempio, uno degli argomenti che scioccamente si faceva contro la teoria di Darwin era l'argomento dell'incipienza degli organi di senso. Si diceva, l'occhio è troppo perfetto per potersi essere evoluto gradualmente. Al che qualcuno poi aveva già risposto, anche Darwin in realtà aveva risposto così dicendo, beh, comunque mezzo occhio è sempre meglio di nessun occhio, no? In effetti, quando poi i biologi evoluzionisti hanno cominciato a studiare la filogenesi di questa struttura, si sono resi conto di cose fantastiche. Essenzialmente nasce l'occhio come piccolo organo, come ammasso cellulare, che è in grado di sfruttare delle sostanze che reagiscono a certe colorazioni di luce. Ci sono, in particolare, per gli animali saranno specifici enzimi che reagiscono alla presenza della luce rossastra. E per quello che poi diventerà le piante, cioè per quella parte del mondo vivente che diventeranno le piante, è per il verde, no? Questo sembra già abbastanza interessante. Ma nasce a un certo punto questa piccola cavità cellulare, una piccola macchia, un piccolo affossamento, che poi in realtà rimane anche negli occhi più sviluppati come i nostri, questo piccolo affossamento in cui le cellule rispondono alla presenza o meno di luce. E a partire da questo quella cavità diventa sempre più grande, aumentano la superficie su cui si possono depositare queste cellule fotorecettrici. A un certo punto questa cavità ospita al suo interno ulteriori strutture. Poi gli occhi sono tantissimi, no? Pensate all'occhio composito, per esempio degli insetti, o agli occhi anche di altri mammiferi, pensate agli occhi dei felini, ognuno con delle caratteristiche simili, ma spesso, come dire, anche con delle differenze significative. All'interno di questa cavità si inseriscono strutture ausiliari, come vedremo è l'intero globo di quello che noi chiamiamo proprio il vero e proprio occhio. L'occhio essenzialmente è una struttura che media, e media per trasdurre meglio e amplificare al massimo, il segnale visivo, il segnale luminoso, dal momento in cui tocca la superficie dell'humor, e per farla arrivare perfettamente fino alla retina. Senza contare il fatto che ci sono una serie di strutture, anche nell'occhio esterno, che sono importanti anche semplicemente per il livello e il grado di protezione che danno a questo organo, no? Che poi a un certo punto nel corso della nostra evoluzione si è andato a rostralizzare, a encefalizzare, cioè si è concentrato proprio la parte più prominente dei nostri sensi, quello che guarda davanti a noi. Quindi, al di là di queste strutture esterne che in realtà conosciamo tutti, la palpebra, la ciglia e le sopracciglia, se andiamo a vedere l'occhio, senza la pretesa di farmi insomma, mi è entrato qualcosa nell'occhio per l'appunto, però per dimostrare quanto funziona bene il sistema di protezione dell'organo di senso, ci sono alcune parti che conosciamo molto bene, no? L'iride, cioè la parte colorata, quella che ci dà la colorazione personale tipica degli occhi di ciascuno di noi. La pupilla, cioè la parte nera in fondo, quella che è soggetta, quella che ci permette di vedere quel fenomeno che ci dicevamo prima, l'accomodazione dell'occhio. Poi c'è questa piccola lente esterna traslucida, il cristallineo, che vedremo è fondamentale, è lei che si occupa in realtà, è lei la lente e lui la lente che si occupa dell'accomodazione, altre strutture più o meno di protezione e nutrimento, come possono essere per esempio la congiuntiva, e poi una serie di membrane che sono sul fondo dell'occhio, dopo quello che viene chiamato il globo, per l'appunto, il globo pallido, tra cui la più importante è questa membrana cellulare, che noi chiamiamo retina, su cui vedremo, ci sono presenti le cellule fotorecettrici della nostra specie, che sono i coni e i bastoncelli. E' importante anche vedere una cosa, vi spiego dopo perché, però tenete da conto già a partire da questa immagine, che c'è un punto dell'occhio in cui non c'è altro che l'ingresso sia dei vasi sanguigni, che poi che irrorano l'occhio, che portano a esso nutrimento, e da cui comincia a partire il nervo ottico. Ora dopo vedremo perché è così importante, quantomeno per farci comprendere la complessità e la sofisticazione della visione umana. Vi dicevo, per l'appunto, il processo di accomodazione su cui vale la pena soffermarci per comprendere la capacità di selezione e amplificazione della trasduzione di segnale che fa l'occhio, è quella proprietà per cui l'occhio cercherà sempre di curvare il cristallino attraverso la contrazione di un muscolo, che è il muscolo ciliare, che è il motivo per cui anche noi a volte possiamo accomodare volontariamente, no? Quando, insomma, chiudiamo un po' gli occhi per cercare di vedere meglio. Così facendo cosa succede? Succede che l'occhio in automatico regola la sua posizione per fare sì che l'energia luminosa di cui è composta l'immagine va adaccata sempre a fuoco sulla retina. Non vi sto, insomma, a ricordare tutto quanto il processo che avete già visto della rifrazione e diffrazione della luce all'interno dell'occhio, che è quello del principio che poi viene imitato dalla camera oscura e via discorrendo. A noi quello che interessa di più è sapere che sulla retina sono presenti questi due tipi di cellule fotorecettrici, che si chiamano coni e bastoncelli, di cui come prima cosa possiamo osservare una certa disparità numerica. Cioè i coni sono molti di meno rispetto ai bastoncelli, parliamo nel primo caso di 5 milioni di cellule circa, nel secondo di circa 120 milioni, ma sono due cellule altamente specializzate per compiti profondamente differenti tra di loro. Intanto i coni sono quelli che si attivano quando ci sono ottime condizioni di luce, quindi una certa intensità luminosa, e sono le cellule che sono deputate alla ricezione degli stimoli cromatici, cioè dei colori e dei dettagli della visione. D'accordo? Al contrario i bastoncelli, che sono molti di più, e vedremo occupano anche una posizione particolare rispetto alla retina, non sono in grado di rispondere alle stimolazioni cromatiche, quindi non vedono i colori, non si attivano col colore, e sono più sensibili alla luce bassa soffusa crepuscolare. D'accordo? Non è un caso che quando c'è poca luce noi essenzialmente vediamo delle variazioni del nero, non siamo in grado di cogliere bene i colori, possiamo anche non coglierli affatto, ma per esempio anche al buio riusciamo a cogliere se c'è un movimento. E la stessa cosa, vedremo, è fondamentale, ci succede ai bordi della visione, quella che viene chiamata la visione periferica, che è di pieno dominio dei bastoncelli. In particolare, se il gioco concomitante di coni e bastoncelli è responsabile di quello che viene chiamato il visus, cioè l'acuità visiva, la capacità che noi abbiamo, quella che si misura dall'ottico insomma, ti manca un decimo, ti mancano due decimi, si parla dell'acuità visiva, la maggior parte dell'elaborazione sensoriale delle nostre immagini, soprattutto delle immagini in piena luce, la fanno i coni, che sono concentrati in un punto specifico della retina che si chiama fovea, che è per l'appunto, diciamo, il retaggio di quella cavità in cui si andavano accumulando le cellule fotorecettrici. Nella fovea, la vicinanza tra i coni ci permette di vedere le cose in maniera molto nitida, distinguendo anche i dettagli delle sfumature, per esempio anche delle sfumature cromatiche. E quindi la fovea può essere considerato il punto, diciamo, centrale della visione mediata dai coni. Ora, se riosserviamo di nuovo questa immagine, ci rendiamo conto che la fovea è lievemente spostata, anche se poi, come dire, la fovea è il punto centrale di concentrazione, tutto intorno alla fovea ci sono i bastoncelli. La fovea è a poca distanza da quell'ingresso del nervo ottico di cui parlavamo prima e a cui possiamo ora dare un nome, che è punctum cecum, cioè il punto ceco, che è il punto dell'occhio in cui non ci sono fotorecettori. Perché non ci sono fotorecettori? Perché lì c'è proprio un disco che è il disco di immissione del nervo ottico e dei vasi sanguigni. Non ci possono essere le cellule dove ci deve stare l'ingresso del nervo, d'accordo? Ora, questa cosa è abbastanza significativa perché noi non vediamo il punto ceco. Nel momento in cui noi guardiamo, anche con soltanto un occhio davanti a noi, noi non vediamo mai un punto ceco. Non c'è un punto nero all'interno del nostro campo visivo. Perché? Questo perché c'è una continua compensazione, anche di natura percettiva, quindi di natura cognitiva, che fa sì che noi vediamo sempre il campo pieno, andandolo a ricostruire, per esempio, quei singoli elementi che ci provengono dal minimo spostamento dell'occhio. Come se facessimo già una computazione. E questo è importante perché? Perché spezia un po', almeno da un punto di vista funzionale e generale, quella dicotomia tra sensazione e percezione, che come vedete sono dei fenomeni che sono sempre interagenti tra di loro. Ok? Venendo invece adesso alla visione periferica, la visione periferica è in realtà molto più ampia rispetto alla visione centrale, anche se molto meno dettagliata perché è dipendente in larga parte dai bastoncelli, che, come vi dicevo, sono più numerosi e quindi hanno più area da poter coprire. Questo è il motivo per cui, però, per esempio, noi non riusciamo a cogliere con precisione, lo potete vedere anche guardando l'immagine che vedete qui, forse l'avete dovuto mettere un po' più grande, però se voi vi concentrate, rimanete fissi, dove c'è scritto central, nella parte gialla, la capacità di cogliere nitidamente i contorni delle immagini intorno si va un po' a perdere. Ma questo, come dire, è tutto sommato relativo rispetto alla grande funzione che hanno i bastoncelli in questo caso. Il fatto che noi possiamo vedere con la coda dell'occhio i movimenti piuttosto che i colori è un life saver, perché, ovviamente, dove noi non possiamo concentrare l'attenzione, che cos'è importante? Sapere di che colore è il vestito della persona che sta correndo verso di me? No, è sapere che c'è un movimento. E non importa i colori, i bastoncelli sono molto bravi nella detezione del movimento, cioè riescono a eccitarsi con molta facilità, a prescindere dai colori da cui non sono fondamentalmente, come dire, quasi affetti, ma sono estremamente capaci di cogliere i movimenti nella visione periferica, che è, se potete vedere, la caratteristica sensoriale e percettiva fondamentale che ci serve per la visione periferica. Un modo, come dire, abbastanza simpatico, oggi cominciamo, l'altra volta vi siete un po' scaldati e avete cominciato a fare le domande, avete fatto un brutto affare, perché adesso cominciamo gli esperimenti a distanza, signori. Un modo per vedere facilmente questa questione della visione periferica è il fenomeno del visual crowding, ok? Non vi preoccupate, non vi chiederò di avvicinarvi con il naso allo schermo. Ci avevo pensato a mettere un'immagine del genere, però poi ha detto no, se no sembra veramente troppo brutto. Però se vi basta così sullo schermo, magari, ecco, se mettete il schermo intero non fate un soldo di danno, se fissate il punto verde in mezzo vi renderete conto che la A sulla sinistra riuscite ancora in qualche modo a riconoscerla, riuscite a percepirla, no? Perché è ancora abbastanza semplice. L'A che sta sulla destra, invece, essendo all'interno di un'altra serie di stimoli, che hanno lo stesso colore e una forma simile, non potete riuscire a percepirla come A. Perché? Perché mentre a sinistra quella parte residua di visione conale cerca ancora di dirvi «Vabbè, ma qua c'è uno stacconetto tra il blu e il bianco, puoi ancora riconoscere la forma». Di là, invece, anche se la forma è presente, se voi poi spostate lo sguardo verso la destra, vi rendete conto tranquillamente che la A sta lì. Ma il fatto che ci siano altri elementi non vi permette di cogliere bene i contorni, perché per voi c'è qualche cosa a destra, ma non posso definirli bene perché sono tutte colorate, sono tutti uguali, sono troppe informazioni. L'immagine, il campo periferico, quando si affolla, noi perdiamo la capacità di cogliere i dettagli. Questo è un fenomeno noto come visual crowding. Ok? Allora, riprendo un secondo. Allora, prima di passare alla seconda parte in cui ci dobbiamo rigettare nel cervello, vi chiederei a voi se ci sono delle domande riguardo a questo, riguardo a quello che ci siamo detti finora, così cerchiamo di rispondere, poi facciamo una breve pausa e ci rigettiamo nel sistema nervoso centrale. Domande ragazzi? No? Perfetto. Allora ci rivediamo qua alle 13 e facciamo un piccolo break, va bene? A più tardi. Vediamo l'immagine di nuovo, vi richiamo l'attenzione su questa. Abbiamo detto l'altra volta, parlando della lateralizzazione emisferica e della specificità di lateralizzazione degli emisferi, che il cervello controlla i sensi e il movimento in maniera controlaterale, cioè l'emisfero destro controlla ciò che avviene nei sensi a sinistra, nei sensi nel movimento a sinistra e viceversa. Questo è particolarmente evidente per quanto riguarda la vista, se andiamo a vedere come i nervi ottici si proseguono nel loro viaggio dalla retina, cioè dal fondo dell'occhio, fino ad arrivare verso le aree occipitali. Perché la prima cosa che possiamo notare è che a un certo momento fanno un chiasma, cioè si incontrano a X e si scambiano praticamente la posizione. Questo è il motivo per cui l'occhio sinistro proietta verso l'emisfero destro e l'occhio destro verso l'emisfero sinistro. Nel passaggio fino alla corteccia occipitale, che ora andremo ad analizzare nel dettaglio, il nervo ottico fa passare il segnale all'interno di una struttura del talamo. Vi ricordate l'altra volta quando parlavamo del cervello e io ho detto il talamo? È una delle sedi anatomiche più coinvolte nelle funzioni attentive, cioè quelli che hanno a che fare con l'attenzione. In effetti, le strutture che fanno da passaggio, che fanno da ponte tra l'occhio e l'occipitale, le strutture talamiche, sembrano avere proprio questo tipo di ruolo. In particolare, sembrano avere questa funzione quelle strutture che noi chiamiamo i corpi genicolati. I corpi genicolati sono particolari perché hanno il 10-20% di proiezioni afferenti dalla retina. Quindi, diciamo, un 20% del segnale che arriva ai corpi genicolati effettivamente viene dalla retina. Ma poi la restante parte viene dalla corteccia visiva. È come se fosse un primo centro di feedback. E non soltanto dalla corteccia visiva, ma anche da delle regioni del cervello rettile molto importanti, come per esempio il tronco, quindi tronco, ponte e medulla, che hanno a che fare con le funzioni, ricordate quelle basilari, per la vita. E, a quanto pare, anche alcuni processi di attenzione superiore. Fondamentalmente è responsabilità dei corpi genicolati quella di avvisare il cervello se uno stimolo all'interno del campo visivo, in questo caso, ha una rilevanza, è significativo, è qualcosa a cui prestare attenzione. I corpi genicolati non sono soltanto quelli laterali. Esistono anche un'altra area del corpo genicolato, che però è quella mediale, e ora voi dovreste capire perché è stata così importante fare quella lezione su che cos'è laterale e che cos'è mediale. Il mediale vuol dire che sono i corpi genicolati nella parte che stanno più vicini al centro del cervello. I corpi genicolati mediali fanno la stessa cosa che fanno i laterali per la visione, per l'udito. C'è uno dei tanti proverbi, modi di dire, per ricordarselo, però in inglese, però magari può farvi comodo uguale. Come si fa a ricordare che il laterale si occupa di visione e il mediale di udito? L is for light, M is for music. Cioè L sta per la luce e M sta per la musica. I corpi genicolati laterali sono delle strutture fondamentali. In caso di lesione, ad esempio, di queste strutture, le persone possono non rendersi più conto di che cosa è rilevante all'interno di una scena visiva. Per farvi capire, pensate al momento in cui attraversiamo la strada. Nel momento in cui attraversiamo la strada noi siamo ovviamente bombardati da tutta una serie di stimoli visivi che possono essere anche molto importanti. Alcuni possono anche avere un peso particolare. Mettiamo che voi stiate attraversando la strada e dall'altra parte del marciapiede c'è una vetrina con molte luci, con molti colori. Quello è un segnale molto pesante, se volete. C'ha molti colori, il luminoso attrae la vostra attenzione, in qualche caso. Se però, a un certo punto voi attraversate, i corpi genicolati vi dicono guarda che c'è una cosa che si muove sulla tua sinistra, stai attento a quello che può essere una macchina. Oppure, ad esempio, anche grazie all'esperienza e anche grazie all'apprendimento, noi possiamo arrivare a trovare assolutamente naturale il prestare più attenzione ad alcuni elementi dell'ambiente piuttosto che altri. È il motivo per cui, nel momento in cui voi guidate in strada, ha sempre molto più valore, da un punto di vista di salienza e di capacità di catturare la vostra attenzione, un semaforo rispetto all'adesivo che ha qualcuno sulla macchina o il colore di una macchina. Perché quello, l'apprendimento ha fatto sì che, in qualche modo, attraverso una serie di feedback, rimodulazioni e connessioni anche con queste strutture sottocorticali, quali sono i corpi genicolati, attivi la capacità di cogliere la vostra attenzione. Questo, ragazzi, tenetelo anche come un riscaldamento per l'attenzione. Perché noi, già a partire dalla prossima volta, cominceremo a parlare di questa attenzione che è una cosa molto particolare. Perché l'attenzione è una funzione esecutiva trasversale, onnipresente, che ha sia delle funzioni fondamentali di base, ma che, per certi aspetti, fa anche parte di quella macrofunzione che noi chiamiamo la coscienza. Ok? E vediamo che l'attenzione è un grandissimo strumento, molto forgiato dall'evoluzione per selezione naturale, e che proprio per questo motivo, come un po' per seguire anche il filone di quello che è uscito fuori con la domanda di Lucrezia di ieri sera, di ieri pomeriggio, quando ci ha chiesto se ci potrà essere un cervello con un modulo innato per la lettura. Noi abbiamo molti moduli innati per l'attenzione. Uno di questi è proprio il corpo genicolato laterale, almeno per alcuni aspetti basilari. Ed è questo il motivo per cui, per esempio, poi lo scopriremo, quando facciamo attenzione a qualcosa è molto facile per noi non accorgerci di niente. Questo è qualcosa che, anche quando siamo sovra pensieri, oppure, non so, se qualcuno di voi gioca ai videogiochi, se qualcuno di voi gioca ai videogiochi o a qualche amico o partner che è un videogiocatore forte, le persone che si usano e tu li chiami, no? È pronto. È pronto. Il mio vecchio inquilino era così, poi ci sono diventato pure io grazie a lui, non smetterò mai di ringraziarlo. È pronto. È pronto. È tutto. Tattattattattà che giocavi soltanto a Final Fantasy e non volevi pensare a nient'altro. Quando noi prestiamo molta attenzione a qualcosa e concentriamo le nostre risorse cognitive su qualcosa che riteniamo importante per noi in quel momento, siamo in grado di astrarci completamente dalla situazione, anche con certi rischi. Poi vedremo, insomma, domani anche un esperimento abbastanza simpatico e molto noto, però questo può anche essere rischioso. Quando poi parleremo nel dettaglio dell'attenzione, ne parleremo anche riguardo a qualcosa di reale, come per esempio la guida al cellulare. Cercherò di spiegarvi perché guidare al cellulare è qualcosa di semplicemente, cioè usare il cellulare mentre si guida è qualcosa di semplicemente impossibile, insostenibile da un punto di vista cognitivo. Comunque, andando avanti, arriviamo su una slide in cui ci dobbiamo soffermare un pochino, perché come vi dicevo, una volta che è passato attraverso il nervo ottico anche la parte talamica, a un certo momento la luce, il segnale che è ormai diventato impulso bioelettrico, arriva nel lobo occipitale, dove assiede la corteccia visiva. E la corteccia visiva, ve lo accennavo già l'altra volta, è una meraviglia architettonica, da un punto di vista di architettura biologica, intendo, no? Perché? Beh, perché intanto è organizzata in diverse sottoaree, ve l'ho detto l'altra volta, le aree visive sono 8 in tutto, da V1 a V8, che si estendono lungo tutta quanta l'estensione della corteccia, ok? E nello specifico, ciascuna di queste aree è deputata all'elaborazione di uno specifico tipo di stimolo visivo. Per esempio, per farvi degli esempi, l'area nota come V1 cataloga e smista gli stimoli in ingresso, ci sono poi in V2 delle aree associative di passaggio, ma V3, ad esempio, si occupa solo ed esclusivamente della forma degli stimoli visivi che arrivano. È quella l'area in cui, per esempio, noi possiamo trovare zone che si accitano soltanto davanti a linee orizzontali, alcune a linee oblique e altre a linee verticali. L'area nota come V3a, e poi anche con un forte coinvolgimento dell'area nota come V7, ha a che fare con il movimento di cui si fa portatore lo stimolo visivo. Alla stessa, e in maniera analoga, ora vedremo perché c'è anche questa differenza, come dire, una muove verso l'alto e una muove verso il basso, l'area nota come V4 si occupa del colore e della forma in una prospettiva più globale, non a livello di singoli componenti strutturali dell'immagine. Già questo tipo di architettura è un tipo di architettura veramente, come dire, stupefacente e importante. Tra l'altro, cara Lucrezia, è proprio lì sotto, in V4, nella parte più vicina all'obbo temporale, che c'è esattamente quell'area di cui io ti parlavo ieri, che è il giro fusiforme, che è deputata esclusivamente al riconoscimento dei volti. Cioè riconosce la forma del volto, ok? È così importante il fatto che la forma legata al movimento stia su, e la forma legata all'associazione dell'immagine con qualcosa che conosciamo, con un significato che può avere quello stimolo visivo, stia giù, cioè stia verso il temporale. Perché in realtà lo stimolo visivo non si ferma nella corteccia visiva. Questa comincia a diventare, come dire, una di quegli esempi fantastici della complessità dello stimolo nervoso e della sua elaborazione. Noi sappiamo che lo stimolo visivo prosegue attraverso una serie di associazioni e circuiti anche di feedback in altri lobby e in particolare nel lobo parietale, quindi quello, diciamo, sopra, quello che va verso la parte superiore, no? Appunto verso il parietale. E quindi le aree che ci proiettano sono quelle che vanno, diciamo, da V3 fino a V7, che vanno direttamente dall'olcevitale al parietale. Mentre invece un'altra parte dello stimolo visivo scende verso il temporale, cioè scende avanzando verso il temporale, e questo ha dato vita a un'ipotesi molto interessante confermata da centinaia e migliaia di studi di casi clinici, che è la cosiddetta teoria delle due vie. Nella teoria delle due vie, che quando era ancora, diciamo, un po' più debole, ancora un po' più fresca, se volete, che era l'ipotesi delle due correnti, è the two streams hypothesis, che cosa succede all'elaborazione degli stimoli visivi? Da un lato c'è una parte che corre dorsalmente verso il parietale e quella noi la chiamiamo la via del dove, o anche la via del come. Questo perché? Perché andando a proiettare verso le aree parietali, che forse ricorderete già da ieri essere le aree che sono deputate all'elaborazione del senso rimotorio, quindi anche della nostra risposta motoria, quella via di proiezione, quella via di passaggio dello stimolo visivo, è la via di passaggio che sta dicendo al corpo, guarda che l'oggetto che stai vedendo si sta muovendo verso là, o si muove da qua. Questo perché? Perché ci può aiutare a preparare la nostra risposta motoria, no? Per farvi capire, il fatto che una palla da baseball stia arrivando verso di me, viene elaborata in questo passaggio dorsale, dove le informazioni visive vanno a dialogare direttamente con le informazioni sensori motorie che possono prepararmi a una risposta di tipo motoria. In maniera analoga, ma differente, l'informazione visiva che passa nella corrente ventrale, che proietta verso il temporale, è la cosiddetta via del cosa, che è quella che ci permette di riconoscere le forme nel momento in cui noi vediamo un oggetto. Quando noi vediamo un oggetto, non è che vediamo ogni singolo dettaglio, e comunque ci sono tutta una serie di cose che diventeranno chiare lunedì quando parleremo della costanza percettiva, che in realtà l'immagine che noi vediamo la dobbiamo sempre costruire a partire da un raffronto che facciamo, oltre a pattern che in maniera innata abbiamo ereditato dall'evoluzione per selezione naturale, oppure dall'esperienza. Abbiamo imparato, per esempio, che se vedo una cosa che ha una forma di un parallelepipedo più o meno alto e c'ha una parte in cui non c'è un bordo, probabilmente quella è un libro, a prescindere dal fatto di come io metta il libro davanti a me, no? Non è importante la luce che ci arriva, se è crepuscolare, se è intensa, se il libro è colorato, se il libro è nero. Se quella forma è quella, com'è la forma di una scarpa? Se vedo una cosa che tramite apprendimento ho imparato a essere appartenente alla categoria scarpa, se vedo una certa immagine e attraverso la via del come si attivano le associazioni con il concetto che io ho di scarpa, dico quella è una scarpa, anche se la scarpa è messa al contrario e così via. C'è una cosa che voglio dirvi e mi piacerebbe vedervi, adesso posso anche staccare un attimo le slide, fatemi capire soltanto come posso fare, cederei molto insomma a vedervi un attimo, perché vi vorrei parlare di una questione importante che è la questione delle patologie di questa area qua. Allora, proviamo a immaginare che tipo di... ecco, forse adesso riusciamo anche a vederci un po' dall'alto, mi dispiace per questo cambio di prospettiva, insomma, però ci dovremmo riuscire a vedere. Voi provate a immaginare che tipo di patologie potrebbero emergere nel momento in cui ci troviamo a fronteggiare un danno alla via dorsale. Vediamo che si interrompa qualcosa, abbiamo un ictus, un ischemia, un tumore nella parte dorsale. Che tipo di problemi potremmo avere? Buttatevi. Legato lì in generale al... in generale che tipo di disturbo potremmo avere? No? L'area della visione funziona ancora, ancora riusciamo a vedere le cose. Però si rompe il passaggio che va dall'area visiva verso l'area del... diciamo del dove, del come, quella della nostra interazione motoria. Allora ve lo dico io. Vi dico uno dei casi possibili. Potremmo per esempio continuare a riconoscere gli oggetti per quello che sono, ma potremmo perdere completamente il senso della profondità. potremmo non essere più in grado di capire dove sono le cose. Cioè a che distanza da noi sono le cose, come arrivare alle cose, come interagire fisicamente con le cose. Perché riusciamo a riconoscerle, ma non riusciamo a dargli una dimensione spaziale relativa alla nostra interazione con loro. Quando io sono qui e ho bisogno per esempio di cambiare inquadratura per ritornare alle slide, no? Per farvi vedere la teoria delle due vie. E poi però voglio ritornare a far vedere me. È un piccolo gesto del movimento della mano, ma io so dove devo andare. So esattamente a che distanza devo andare. Lo calcola la via dorsale per me. Dice il computer sta a quell'altezza là. Se vuoi andare a toccare il tasto devi sporgerti un pochino, perché altrimenti non ci arrivi. Ok? Se c'è un'interruzione nella via dorsale, questo non è più chiaro, perché riconosco che quello è un computer, ma a che distanza starà da me? E se invece il danno ce l'abbiamo nella via ventrale, che può succedere? Questa la sapete in realtà, perché l'avete già sentita voi, questo termine che sto per usare. Vediamo se qualcuno viene. Nella via ventrale, nella via del cosa, quella che ci associa un'immagine che vediamo, uno stimolo visivo, a un oggetto, a un concetto, a qualcosa che sappiamo essere. Vedo il telefono e dico questo qua non è un parallelepipedo, è un telefono. Questo è un telefono. Allora, se colpisce il girofusiforme, c'è un nome un po' diverso. Vediamo se sappiamo quella del girofusiforme. Allora, in generale, il disturbo si chiama agnosia. L'agnosia è l'incapacità di riconoscere un oggetto vedendolo. Vi ho già parlato di Oliver Sacks, grandissimo neurologo, grandissimo scrittore dei casi clinici. Nell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, si trova davanti un caso molto grave di agnosia e di prosopagnosia, che è l'agnosia per i volti. Per farvi capire, la prosopagnosia è più o meno semplice da comprendere. Cioè, non si riesce a riconoscere il volto, non ha più un significato. Ok? Non si riescono a riconoscere i volti. Quindi, per esempio, lo racconta Sacks all'interno di questo caso clinico. Questo professore, mi sembra fosse un professore di musica, non vorrei sbagliare. L'ho letto tantissimi anni fa ormai. Questo professore di musica era noto, perché lui non sapeva di essere prosopagnosico. E lui andava in giro fondamentalmente per il campus. Tipo, ogni tanto si fermava e dava delle caramelle o dava delle pacche sulle spalle ai bidoni dell'immondizia, perché pensava che fossero dei bambini. Non riusciva a capire, perché per lui le facce non avevano molto senso. E una volta, per esempio, scambiò sua moglie per un cappello. Cioè, prese la testa della moglie e provò a mettersi lente, le tirò i capelli perché era convinta che fosse il cappello, perché il colore era quello del suo cappello. Il colore dei capelli era quello del suo cappello. L'agnosia, però, in generale, anche all'interno di questo caso, lo si vede nel momento in cui Sacks fa vedere come neurologo, fa fare una prova come neurologo a questo paziente, dandogli un guanto. Gli dà un guanto e gli dice che cos'è questa cosa qui. Un guanto non è difficile, cioè un guanto è un guanto, non è, insomma, si può avere diverse forme, diverse fogge, ma un guanto è un guanto. E lui, guardandolo e basta, cominciò a fare quello che fanno normalmente i pazienti neuropsicologici, cioè razionalizzano, cercano di inventare delle cose che possano funzionare, perché la condizione, diciamo, di disturbo neuropsicologico è molto particolare, perché tu non riesci a renderti conto che qualcosa non va. No? Cioè, o meglio, ti puoi rendere conto che qualcosa non va, ma effettivamente è la parte che elabora il fatto che qualcosa vada o non vada che è rotta, quindi è molto difficile, da un punto di vista fenomenologico, è difficile anche da spiegare. Però, guardandolo, Sachs racconta che il professore faceva, non lo so, forse potrebbe essere un portamonete per cinque tipi di monete differenti, ognuna per la sacca, no? Perché vedendo soltanto la forma, ma avendo un disturbo per l'appunto di tipo ischemico, se non sbaglio, alla via del cosa, non riusciva ad associare a quella forma un oggetto, un concetto. Quando è che riuscì a farlo? Quando lo indossò. Perché noi poi, attraverso la funzione motoria, possiamo compensare quello che non riusciamo più a riconoscere col senso della vista. Allora, indossando, gli dice, facevo l'insight, l'illuminazione, gli dice, è un guanto. Perché aveva capito attraverso un altro senso, un altro tipo di elaborazione, che forma c'era. Perché poi, come dire, le aree associative con gli oggetti, non è che ci stanno solo con la vista, eh? Questo vale anche con l'udito, ma vale anche con qualsiasi senso. Poi, in generale, poi lo vediamo domani, noi tendiamo sempre a integrare i sensi tra di loro, perché le informazioni debbano arrivare nella maniera più composita possibile. Ok? Ah, però, sovagnosia, invece, al contrario, è una... insomma, è particolare, ed è molto particolare, perché, come vi dicevo, la visione del volto per la nostra specie è qualcosa di assolutamente fondamentale. perché dobbiamo poter riconoscere subito i nostri conspecifici, perché nella maggior parte dei casi, almeno in linea teorica, sono la nostra salvezza, no? Almeno quando siamo piccoli, insomma. E... E di casi, insomma, di prosopagnosici, persino Oliver Sacks era prosopagnosico. Cioè, persino lui. È molto più diffuso di quello che si pensa. E la verità è che è difficile da diagnosticare, perché uno che non riconosce i volti e non l'ha mai riconosciuto magari fin da piccolo, perché ha una prosopagnosia congenita. Eh, che ne sa lui, no? Cioè, è come la vecchia strada del colore dei non vedenti. Sai, che è un po' difficile da spiegare. C'è gente che passa la vita prosopagnosica, che semplicemente non si rende mai conto di esserlo. Ok? Poi, vabbè, in generale, diciamo, su questa parte qua, se vi può interessare in generale che cosa significa il volto da un punto di vista di percezione visiva, c'è un mio video sul canale di YouTube, di un seminario che ho fatto per i colleghi della scuola di specializzazione di Neuromed su un romanzo di Emmanuel Carrera, I Baffi, non so se l'avete letto, è un romanzo molto vecchio di Carrera, ma è stato ripubblicato da poco per Adelfio, un'ottima traduzione per l'altro, tra l'altro. E vabbè, insomma, non vi faccio spoiler perché la storia è bellissima se nel caso lo voleste leggere, ma all'interno di questo breve seminario di cui trovate la registrazione parlo non soltanto della prosopagnosia, ma del valore del volto. Voi non avete idea di quanti disturbi psichiatrici, neuropsichiatrici e neurologici coinvolgano il volto. Perché vi faccio un esempio. Forse avete sentito parlare insomma di una serie di sindromi come per esempio la sindrome di Fregoli, le persone che sono convinte che tutti quanti sono dei soci o degli impostori, ma ce ne sono insomma differenti sindrome, si chiamano sindrome dismetamorfiche, si chiamano. Nella maggior parte dei casi il giro fusiforme non è collegato solo al giro visivo, non è collegato solo all'area visiva, per esempio è collegato anche al sistema limbico, a quello che è deputato le emozioni. Questa prendetela come una prima introduzione alla complessità delle architetture cerebrali. Ok? Questo perché è così importante che l'area che riconosce la forma del volto sia collegata all'area che elabora la risposta emozionale? perché il volto non è uno stimolo neutro. Il volto per esempio di un familiare rispetto al volto di uno sconosciuto ha una valenza emotiva completamente differente. Il volto di mia madre, il volto di mio padre, il volto di mia sorella, il volto del mio miglior amico, il volto del mio partner sono dei volti che sono speciali per me. Ok? Questo perché sono speciali? Perché da un punto di vista neurobiologico quando l'ins, quando il fusiforme riconosce quel volto si attiva anche l'insula e l'amigdala che dicono che bello il volto della persona che amiamo. Ok? Se si rompe quella il collegamento per un ischemia un ictus un tumore il collegamento tra fusiforme e sistema limbico noi cominciamo ad avere la famosa sindrome dell'impostore. Cioè vediamo la gente e pensiamo che sia stata sostituita da qualcun altro. Pensiamo che siano dei sosia che non possano essere quelle persone là. Perché? Perché razionalizziamo a caso del disturbo neuropsicologico il fatto che riconosciamo il volto ma non si attiva niente di a livello emozionale per noi. Vediamo che è nostra madre ma non si attiva quel calore che noi proviamo nei confronti di nostra madre. Quindi capite anche l'importanza del fatto che certi pattern visivi siano riconosciuti proprio in questa maniera qua e anche come questa fissità funzionale di certe aree modulari possa avere anche delle ricadute che sono molto importanti anche molto drammatiche da un punto di vista patologico neuropsicologico in realtà spesso anche psichiatrico perché poi la razionalizzazione che si fa a partire da questi disturbi spesso sfocia nella paranoia insomma ci sono casi abbastanza pesanti ma è un gioco veramente di connessioni un'altra sindrome molto famosa in neuropsichiatria è la sindrome di cotar che è la sindrome delle persone che pensano di essere morte vivono ma pensano di essere morte non sentono il loro corpo lo percepiscono come un corpo morto pensano di stare come dire putrascendo al loro interno perché che succede quei meccanismi delle aree i meccanismi di collegamento tra le aree della propria ocezione il parietale in particolare e il sistema limbico sono interrotti per via traumatica che magari c'è stato un piccolo ictus e quindi il corpo non lo riesci più a sentire come tuo capite che il vero segreto che è poi il motivo per cui la plasticità che è così importante nel cervello è proprio la capacità di stabilire connessioni tra le aree che il cervello ha nuove connessioni significano categorie della percezione di se stesso e del mondo questo ci darei che lo capiste anche a partire da questo scusate l'excursus un po' psicopatologia generale però mi sembrava abbastanza come dire anche questo utile adesso riprendo finendo la parte diciamo sulla sensazione visiva perché ancora come dire io la percezione ancora non l'ho toccata e come vi dicevo poi riapriremo in qualche modo anche con l'udito parliamo della visione dei colori voi sapete che la visione dei colori è qualcosa di assolutamente centrale non soltanto nella psicologia nella psicofisiologia ma in generale è una parte della fisica importante e soprattutto c'è tutta una componente artistica culturale sapete una delle teorie classiche dei colori chi le elaborò Goethe Goethe a un certo punto scrive un trattato sulla visione dei colori perché i colori sono importanti i colori fondamentalmente sono una cosa importante per noi hanno anche intanto come dire i colori in natura hanno un valore molto forte indicano moltissime cose e poi c'è anche quella questione legata a quello che vi dicevo ieri cioè i quali a queste sensazioni soggettive che proviamo nel momento in cui speriamo una sensazione o costruiamo un percetto il modo in cui sentiamo che cosa vuol dire essere rosso che cos'è la rossitudine del rosso i colori ci hanno sempre affascinato perché sono belli perché sono misteriosi nel loro essere palesi molto particolare e poi perché insomma come dire l'arte più bella lo usiamo anche come modo di dire vedere il mondo a colori vedere il mondo oggi è una giornata grigia nessuno dà un valore positivo a tutto questo ed è quindi stato molto importante cercare di comprendere anche da un punto di vista scientifico la visione dei colori in particolare per parlarvi dei colori della prima intanto devo fare una piccola premessa cioè noi non cogliamo ovviamente questo ve l'ho detto già prima noi non cogliamo ovviamente tutti i colori dello spettro spettro è molto vivo ampio si va dall'infrarosso all'ultravioletto ci sono colori che noi come specie non riusciamo a cogliere ma che altri animali sì ad esempio anche alcuni mammiferi diciamo domestici sono particolarmente più bravi di noi per esempio i topi non hanno una visione così particolare i gatti neanche rispetto ai colori però per esempio gli elefanti i delfini hanno una buona discriminazione dei colori insieme a altri primati come sapete i cani e i gatti non sono particolari i cani vedono fondamentalmente quasi soltanto il blu e il rosso come tipo di colore mentre invece i gatti come potete aspettare hanno un'ottima visione dal punto di vista dei bastoncelli perché proverbialmente riescono a vedere molto meglio di noi al buio o comunque a muoversi a muoversi nel buio per parlare della prima teoria scientifica sui colori vi voglio introdurre un personaggio che è un altro grande padre della neurofisiologia che è anche il padre di questa teoria di questa prima teoria dei colori che si chiama teoria tricromatica della visione del colore il personaggio nello specifico è Helmholtz metterò metterò foto con nome dati di nascita di morte nel video Helmholtz è fondamentalmente considerato uno dei più grandi neurofisiologi di sempre un uomo che ha studiato il funzionamento dei nervi in maniera sperimentale alla fine dell'ottocento portando avanti alla seconda metà dell'ottocento portando avanti i più grandi progressi in neurofisiologia fatti fino a quel momento insieme a Müller insieme a Donders è considerato giustamente come uno dei pionieri della prima fase della psicologia scientifica diciamo essenzialmente coevo anche a Fechner questa è tutta la generazione dei maestri di Wundt cioè dei maestri del primo fondatore del fondatore del primo laboratorio di psicologia sperimentale Helmholtz tra le tantissime cose che fa perché considerate che la maggior parte dell'acustica che noi studiamo oggi la dobbiamo a Helmholtz c'è tutto il concetto delle vibrazioni dell'acustica fondamentalmente fu lui tra i primi a studiarlo nella maniera per come la conosciamo oggi però Helmholtz nella sua grande avventura intellettuale a un certo momento decide di occuparsi della visione dei colori e che cosa fa? tira fuori un esperimento che è anche abbastanza ingegnoso lui aveva lui era per l'appunto uno di quelli che pensava che fosse necessario costruire una teoria della visione dei colori a partire dalle teorie cromatiche quelle che si studiano in storia dell'arte e che quindi ci fossero fondamentalmente dei colori di base allora lui cosa fece? prese tre emettitori di luce che c'era una luce diciamo tra il blu e il viola una verde e una tra il giallo e il rosso e prendendo diversi soggetti cominciò a aumentare i volumi di ciascuna di queste luci alle persone fino ad arrivare a vedere che i soggetti potevano con un bilanciamento di queste tre sorgenti di luce vedere tutti i colori dello spettro visibile all'uomo da questo Helmholtz dedusse che noi avevamo all'interno della retina i coni che rispondevano a tre diciamo a tre colori differenti cioè ciascun cono ciascun tipo di cono rispondeva a una specifica lunghezza d'onda dell'energia visiva e sulla base di questo arrivò sulla base dell'esperimento che fece arrivò a pensare che c'erano i coni blu-violetti i coni verdi e gli schieratissimi dal punto di vista calcistico coni giallo-rossi attraverso un equilibrio dell'eccitazione di questi tre tipi di coni si poteva raggiungere tutta quanta la sfera dei colori e effettivamente una buona parte dei colori che noi vediamo può essere spiegato esattamente in questo modo qui cioè tramite una maniera tutto sommato sommatoria di accumulazione e gestione equilibrio armonizzazione degli stimoli visivi dei diversi tipi di lunghezza d'onda fino a percepire un colore specifico c'è però un problema e per questo devo richiamarvi un'ulteriore volta a uno di questi esperimenti a distanza che normalmente faremmo in una classe e cioè io vi dovrei chiedere di guardare per una decina di secondi questa immagine qua dovrei far sparire il titolo e metterla più grande anzi lo faccio subito così live in diretta l'aumento di grandezza e vi chiederei fondamentalmente di mettere a schermo intero il tutto e fissare con forza questa immagine possibilmente al centro dell'immagine per una decina di secondi dopodiché girate il vostro sguardo e guardate verso una verso una parete bianca verso una parete insomma bianca uniforme ok proviamo vediamo che succede secondo me potete provare adesso a guardare la parete bianca provateci vedete niente? per un secondo se vede l'immagine e l'immagine che tipo di immagine vedi? lo vedi con quei colori della bandiera o vedi la bandiera americana normale per quel secondo? guardate ragazzi con uno schermo è difficilissimo me ne rendo conto perché l'altra volta l'ho chiesto a un mio amico che si occupa di questo e ho detto ma perché questo esperimento non viene sempre quando lo faccio al computer? perché alcuni schermi mandano la luce in una maniera un po' particolare se ve l'avessi fatto vedere diciamo su carta sul manuale ovviamente lo trovate o in classe sul proiettore invece sarebbe venuta con molta facilità qua magari dovreste concentrarvi un po' di più ma insomma non vi voglio tenere un minuto a guardare lo schermo sempre per quella storia dei danni che vorrei cercare di evitare il fatto qual è? questa qua è la classica after image che cos'è un after image? è un'immagine che se io la fisso per molto tempo a un certo momento sposto lo sguardo e rimane una sorta di alone sulla mia retina che mi continua a fare vedere quelle immagini ma con i colori diversi nello specifico questa combinazione di colori sulla bandiera americana così verde fa sì che voi a un certo punto guardando una parete bianca vediate la bandiera per com'è blu, bianca e rossa che come è possibile spiegare un fenomeno del genere alla luce della teoria telecromatica di Helmholtz non si può fare allora alcuni altri autori cominciarono a postulare un altro tipo di teoria e questa teoria è nota come la teoria dei processi opponenti ok che cos'è la teoria dei processi che cosa dice la teoria dei processi opponenti ci dice che in realtà le cellule fotorecettrici non funzionano in maniera singola su quelle lunghezze di onda di Helmholtz ma funzionano a coppia nello specifico la teoria postulava che esistessero una coppia di coni giallo e blu una coppia di coni rosso verde e un'altra coppia di nuovo calcisticamente schierata forse un po' triste per il risultato di ieri bianco nera e in effetti questa cosa qui ci è data un po' la prova anche da quella questione della sensazione che noi abbiamo del colore voi potreste aver visto nella vostra vita un giallo rossastro vi sarà capitato di vedere un giallo rossastro e forse vi sarà capitato anche di vedere un verde giallognolo ok però non avete mai visto un giallo bluastro e non avete mai neanche visto un rosso verdastro perché secondo questa teoria le coppie di coni non possono funzionare simultaneamente la stessa coppia cioè se la coppia è rosso verde tu non puoi vedere il rosso e vedere contemporaneamente il verde perché se è acceso solo un polo del cono allora non si può accendere l'altro però è vero che per i fenomeni di simpatia nervosa e di energia residua nervosa spesso succede che una cellula che viene eccitata per molto tempo quando smette di essere eccitata si eccitano quelle che stanno a fianco a lei perché è come se andassero a ristabilire una specie di calo di tensione che si è venuto a creare no? d'accordo? e questo è il motivo perché questo tipo di teoria postula la presenza di coppie di coni cioè di coni che funzionano a coppie e in effetti spiega le after image scusate non è sempre il gatto l'altra cosa interessante è che noi oggi sappiamo grazie alle neuroscienze che avevano ragione tutte e due cioè è valida sia la teoria tricromatica sia quella dei processi opponenti perché è vero che esistono dei coni che si occupano di lunghezze specifiche d'onda ma i coni sono quasi tutti organizzati in maniera tale da avere un dipolo e quindi di funzionare in questa maniera opponente anche quando ci sono cellule nervose unipolari che sono attaccate alla cellula fotorecettrice dei coni ok quindi diciamo che la virtù sta nel mezzo e la ragione sta nel mezzo ed entrambi le teorie avevano minimamente ragione detto questo vado ad affrontare l'ultimo argomento per quanto riguarda la sensazione che chiude la lezione di oggi andandovi a parlare di alcuni disturbi della sensazione visiva in particolare mi sto riferendo al daltonismo il termine tecnico in teoria è discromatopsia e la cecità cromatica quindi la cecità ai colori la color blindness che si chiama acromatopsia in termini tecnico allora considerate che il daltonismo è abbastanza diffuso nella popolazione anche qui e di solito ci se ne accorge sempre quando qualcuno a un certo punto nel libro di scienze va a vedere la pagina sul daltonismo e dice ma come non lo vedi il 27 tutti dicono no non lo vedo il 27 e là tu capisci che sei daltonico per la prima volta che ho un carissimo amico che voglio molto bene che l'ha scoperto a 16 anni proprio per questo motivo qui meno diffusa ma se volete più drammatica è l'acromatopsia perché ci sono persone e questa ha un'incidenza più bassa se non sbaglio 0,8% di tutta popolazione insomma diffusa abbastanza perché può essere come dire è graduata è graduale non è qualcosa che necessariamente arriva con un mondo completamente in bianco e nero ci sono persone che possono vedere che ne so lievemente ancora un minimo di rosso o lievemente ancora un minimo di verde scusate di giallo o di blu però in una diciamo campo visivo essenzialmente in bianco e nero la condizione prende il nome da Dalton che forse voi conoscete se avete fatto insomma gli studi di liceo per la chimica per le leggi di Dalton Dalton ne soffriva e fu il primo a descriverne noi da quel momento questa condizione la chiamiamo così oggi attualmente abbiamo differenti strumenti per poter misurare per poter valutare e diagnosticare una discromatopsia nello specifico forse quello più importante è il test di sciara per la acidità cromatica ora se non avete problemi di colore dovreste riuscire a visualizzare senza problemi nella colonna a sinistra nelle due colonne a sinistra i numeri 25 29 45 56 6 6 e 8 e invece nell'altra parte dovreste riuscire a vedere nell'altra colonna dovreste riuscire a vedere soltanto il 25 e il 56 vediamo scopriamo se qualcuno di voi è Daltonico c'è qualcuno che vede altri numeri rispetto a questi nella colonna di destra e non ne vede qualcuno nella colonna di sinistra è quello meno nitido è quello meno nitido proprio perché c'è questo verde e questo giallo là intorno che te lo rende un po' meno nitido proprio perché c'è questo gioco di interazione lilla tra la teoria tricromatica e i processi opponenti ok però la Daltonia ce l'avresti il daltonismo ce l'avresti se riuscissi a vedere i numeri a destra e non vedessi quelli a sinistra bene quest'anno la statistica ci ha graziato che normalmente ne trovo sempre scopriamo sempre un paio nelle classi un po' più grandi quindi niente oggi Mattia della Rocca per il sociale non è servito allora ragazzi sentite io stacco un attimo da qui e insomma ritorno a questa questa camera dall'alto all'altro noto che c'ho moltissimo lag anche non so cosa sia successo in questo momento e ditemi se ci sono delle vostre domande rispetto a quello che ci siamo detti niente va bene allora io vi vi chiederei soltanto una cosa insomma prima di salutarvi e cioè come vogliamo fare per l'udito preparo io una registrazione ve la carico ve la mando oppure la riprendiamo direttamente dalla prossima lezione ce la infiliamo cerchiamo di stare un po' più stretti ditemi voi no no ci vediamo ci vediamo però visto che dicevo all'inizio lì non so se sei arrivata un po' più tardi dicevo che l'udito è un po' la cenerentola dei sensi e che di solito si studia la vista perché la vista ha una posizione centrale però io all'udito ci tengo particolarmente perché anche essa è un senso molto particolare anche la sua organizzazione neurofisiologica è molto importante allora vi per non rubarci troppo tempo perché insomma gli argomenti ancora sono tanti volevo dirvi se volete nel senso che volete poi fare delle domande a riguardo su questo lo facciamo direttamente nella lezione magari giungiamo un quarto d'ora alla fine della lezione rimaniamo un po' di più o cominciamo un po' prima e riusciamo a parlarne dentro altrimenti faccio un approfondimento a parte un video a parte ve lo carico ve lo vedete in aggiunta e io poi ricomincio a parlare dell'integrazione della percezione a partire dalla vista lunedì però ditemi voi insomma me lo volete fare sapere per iscritto ci volete pensare diciamo siamo arrivati giovedì quasi alla fine della settimana non ci vogliamo pensare adesso me lo fate sapere facciamo un sondaggio sul gruppo va bene va bene ragazzi allora io vi auguro una buona giornata mi getto nelle altre emergenze qualsiasi cosa ovviamente scrivete commentate fatevi sentire e fatemi sapere ok buona giornata ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.